Oggi siamo a Montichiari in provincia di Brescia e siamo in compagnia di Giacomo Ferrandi che insieme alla famiglia gestisce Cavifer SRL che è una società che si occupa dello smaltimento di materiali ferrosi e metallici. Oggi puntare sull'economia circolare è importante e anche a livello sociale c'è sempre maggiore consapevolezza su questo tema. Per le aziende che sono obbligate poi a smaltire i loro rifiuti di produzione rappresenta anche un'opportunità puntare sull'economia circolare. Come lo si può fare? Certo, puntare sull'economia circolare sicuramente può far bene in primis all'ambiente e in seconda parte anche alle aziende che ricevono questo materiale e appunto bisogna saper scegliere a chi poter consegnare questo tipo di materiale. Perché è importante scegliere bene? È importante scegliere bene perché la suddivisione del materiale è varia e tanta. A volte parliamo di materiale in modo generico tipo il ferro e l'acciaio ma hanno valori ben diversi. E suddividendolo bene è possibile proporlo in maniera più vantaggiosa? Sicuramente, preparando il materiale ad esempio a volte noi parliamo di ferro acciaio in modo generico però ci sono varie tipologie di acciaio come ci sono varie tipologie di ferro dal ferro più spessorato a quello meno spessorato quindi anche questo giova poi sul prezzo finale che le acciaierie o le fonderie riescono poi a darti. Quello che sicuramente è fondamentale è consegnare il materiale e questo parlo per le aziende che hanno bisogno di scartare questo materiale. La cosa principale è di fornirlo ad aziende preparate e pronte per ricevere questo materiale e non affidarsi a persone non autorizzate a fare appunto questa tipologia di lavorazione. Ecco abbiamo parlato dell'importanza di suddividere un materiale dall'altro ma anche le diverse tipologie di uno stesso materiale. Certo perché ad esempio come per il rame per il rame abbiamo tre categorie principalmente si suddivide in tre categorie che sono la prima la seconda e la terza scelta. Queste hanno una differenza di prezzo di centismi di euro per tipologia quindi sicuramente il valorizzarle ad esempio quindi non so da un catodo di rame che sarebbe la barra pulita di rame ad esempio presente in purità come ferro come viti. Queste sono da togliere, dividere e quindi servono anche delle attrezzature specifiche come pistole per rilevare quali metalli sono presenti all'interno del materiale e appunto con questa suddividere i materiali per andare poi a giovare il lavoro che c'è in fonderia quindi per la fusione appunto di questi materiali. Quindi per un'azienda che deve smaltire i suoi rifiuti di produzione l'obiettivo non deve essere solo liberarsene. No anche perché ormai al giorno d'oggi le persone sanno che il rottame e quello che può essere il metallo ha un valore quindi anche lo scarto può essere valorizzato e può essere valorizzato bene perché nel senso affidandosi ad aziende ad esempio come la nostra si può riuscire a smaltire il materiale nel miglior modo possibile con tutte le autorizzazioni del caso e senza nessuna problematica. Anche perché poi le aziende sono responsabili dello smaltimento dei rifiuti che producono? Assolutamente sì perché le aziende che producono un rifiuto questo rifiuto è da dichiarare, è da smaltire con un formulario appunto perché trattaci di rifiuto. Noi addirittura ricevendo dei rifiuti abbiamo la possibilità mediante autorizzazioni di trasformare questo materiale da rifiuto in materia prima secondaria e questo è un punto ancora più a nostro favore ciò vuol dire che essendo certificati su determinate cose le nostre lavorazioni sono pagate. Grazie Ferrandi ci ha dato dei consigli che saranno veramente preziosi per le aziende che magari non sapevano di poter sfruttare questa opportunità e ora potranno farlo. Grazie a lei.